Ciao a tutti e ben ritrovati alla Masterclass di PowerPivot. Allora, siamo arrivati alla lezione 10. Quest'oggi andremo a vedere le funzioni testo, quindi abbiamo ancora un paio di lezioni in cui vedremo delle funzioni semplici in modo da introdurci lentamente al DAX e capire un pochino come funziona. E poi, tra poco, inizieremo a complicare un po' le cose e a fare le cose un po' più seriamente. Allora, oggi andremo a vedere concatenate, replace, search, upper e fix it. Alla fine di queste funzioni qua andremo a vederne anche uno un po' più particolare, così andiamo un po' più a fondo sulle misure. Allora, andiamo nel nostro file di esempio. Come sempre qui ho la nostra tabellina sulla sinistra che poi, facendo clic su PowerPivot, aggiungi al modello dati, finisce sul nostro modello dati. Poi qui c'è una misura che appunto vedremo alla fine. Oggi andremo a lavorare con i campi calcolati, perché le funzioni testo interagiscono appunto con i campi, con le dimensioni testuali, con i campi testuali. Allora, andiamo a vedere il primo. Praticamente io qui ho fatto un concatenate e gli ho detto, guarda, aggregami questo valore, questo campo qua, data, e poi faccio punto e virgola e fammi anche questo altro campo qua. Così lui mette la data più le città e fa appunto data più città, come vedete qua sotto. Però concatenate non mi permette, vedete, se io qui faccio punto e virgola e gli dico prodotto, lo cerco e poi premo tab, ok, così lo scrive in automatico, poi faccio un bel buffo, così lo controlla, lui mi darà errore, perché concatenate non mi permette di concatenare più di due argomenti utilizzando la sua funzione. Quindi per poter aggregare più campi bisogna utilizzare più volte la funzione concatenate, quindi ad esempio in questo caso lo rimetto a posto, do il buffo, così si sistema, quindi ho fatto un primo concatenate dove metto i primi due campi, poi ne ho fatto un altro dove nel primo argomento testo, ok, ho messo la prima concatenazione, poi ho fatto un punto e virgola e ho messo il secondo, ok. Così facendo sono riuscito ad aggregare più campi, però può essere che non sia molto ottimale fare questa cosa, perché diventa un formula abbastanza lungo. Quindi un errore che vi ho detto sull'end e sull'or, anche l'end, quando noi utilizziamo end, ok, mettiamo questo e questo, ok, argomento 1, argomento 2, non ne accetta un terzo, quindi dicevamo che in alternativa si può usare la doppia e commerciale per fare l'end, e l'or la doppia barra, così potete andare avanti all'infinito. Qui in questo caso, cosa facciamo? Anche in questo caso utilizziamo l'end, però uno solo, perché appunto il doppio end è l'end classico, per dare più istruzioni. Invece con l'end possiamo singolo, possiamo fare la concatenazione, e possiamo andare avanti quanto vogliamo, non c'è un limite definito. Quindi io ho messo il nome del primo campo, end, il nome del secondo campo, end, il nome del prodotto, ok, che è il terzo campo. E ho dato l'invio, ho ottenuto lo stesso risultato, quindi se lo guardiamo sono proprio identici, ok, solo che vedete qui la formula è un po' più lunghetta e qui è diventata più semplice e leggibile. Quindi se dovete concatenare due campi è sempre meglio utilizzare la funzione DAX, altrimenti utilizzate l'end. Perfetto, abbiamo visto il primo, andiamo veloci sul secondo. Replace ci permette di modificare i caratteri all'interno di un testo presente in una determinata dimensione. Ad esempio io qua ho detto replace, ok, cambia praticamente, e qua lui dice da quale testo devo partire? All testo, quindi gli do il nome del campo che voglio modificare, ok? Quindi lavoro attivo, festivo, no, metto bella, attivo, festivo, e poi gli dico da che carattere applico la modifica. Quindi io ho messo 4, lui conterà 1, 2, 3, 4, che è la O, e quindi andrà a fare la modifica che gli richiedo partendo dalla lettera R. Quindi R cambierà come io vado a specificare poi. Poi gli dico modificami i successivi due caratteri, sostituliscili con AA. Difatti se noi andiamo a vedere, lavo, vi ho detto un'imperfezione, quando metto 4 è il carattere in cui andrà ad iniziare la modifica, ok? Quindi love AA, attivo, ok? Quindi con replace possiamo appunto andare a fare le modifiche, e il primo carattere è il carattere che va a modificare, scusateli l'imperfezione. Dopodiché andiamo a vedere la funzione search. Allora, aiuto, cos'è successo? Qui c'è un errore, perché prima quando ho avviato il file, non so se vi siete accorti, la formula funzionava correttamente, a un certo punto è andata in errore. Perché è andata in errore? Allora proviamo a fare un debug. Vedete che qui c'è il punto esclamativo. Allora, io premo qui sulla linguetta e gli dico, guarda, mostrami l'errore. Quando io clicco qua compare un messaggio, eccolo qua. Qua mi dice, l'espressione ha fatto riferimento alla colonna che non contiene alcun dato perché deve essere ricalcolata o aggiornata. Allora, questa colonna qua che abbiamo creato è esattamente la colonna che prima abbiamo modificato mandandola in errore, perché abbiamo simulato il concatenate con tre argomenti e non funzionava. Poi io ho premuto il baffo. Ok, quando ho premuto il baffo, questa colonna search che dipendeva da questa è andata anch'essa in errore. Poi abbiamo sistemato questa colonna, però la colonna search non è riuscita a sistemarsi quindi lui mi ha semplicemente detto qui guarda, per sistemare sistema prima la colonna dato che l'abbiamo già fatto, un passaggio l'abbiamo fatto e poi dice ricalcola il modello. Quindi come faccio a ricalcolare? Vado semplicemente nel menu home e premo aggiorna. Ok, qui lui aggiornerà la tabella. Ok, ha finito. E di fatti se vediamo, adesso sta ricalcolando il modello, l'ha ricalcolato, la formula ha sentito che questa adesso è ok e quindi si è messa a posto e mi dà il risultato. Questo è un primo approccio al debug, poi più avanti magari lo vedremo più in modo profondo, però intanto questo è utile, magari fate anche voi l'esperimento così vedete come funziona. Allora, la colonna search mi permette di cercare, scusate, con la funzione daxsearch mi permette di cercare una stringa all'interno di un campo. In questo caso io sto cercando, vedete, find text. Io sto cercando feltre, ok, quindi con le virgolette, e poi lo cerco all'interno di questo campo qua, key. Ok, gli dico, da dove voglio iniziare la ricerca? Dal carattere 1. Se non trovi nessun risultato, mi metti 0. Ok? Quindi lui inizia a cercare, qui non me lo trova, vedete c'è Santa Giustina, qui invece c'è feltre, e me lo trova. Quando me lo trova, mi mette il numero di carattere in cui inizia la ricerca, in cui inizia il testo che io sto cercando. Quindi i primi 10 riscarta, F sull'undicesimo, mi dice, guarda, la tua parola inizia dal carattere 11. Se io qui ovviamente mettessi, inizia a cercare dal carattere 12, che è 1 dopo, lui non me lo trova, perché feltre inizia dal 1. l'undicesimo e trova solo eltre, quindi non è compatibile se me lo trova parzialmente. Questa può essere utile per fare appunto delle ricerche. Dopodiché, vediamo queste tre che sono abbastanza rapide, poi andiamo un po' sulla parte bella. Qui, Upper, praticamente la funzione Upper, mi permette di portare in maiuscolo il contenuto di un campo, quindi lavoro attivo, festivo, ok, che era minuscolo, ok, lo porto tutto maiuscolo. Invece Fixed, mi arrotonda il campo che io scelgo, quindi in questo caso ho preso la tassazione, che è questo, ok, me lo arrotonda con le regole decimali. Qua dico 0, perché non voglio decimali. Se gli dico 1, lui mi riporta un decimale, però nel nostro caso abbiamo un solo numero dopo la virgola, quindi qui ho messo 0 per farvi vedere come funzionava. Così mi arrotonda con le regole decimali, quindi vedete, ho 10 con 9 e 9, con il 2,2 mi dà 2, ok, quindi regole matematiche. Se invece voglio forzare l'arrotonamento in alto o in basso, perché ho l'esigenza di farle, si usa Round Up, ok, quindi Round Up, gli si dà sempre il nome della nostra colonna e poi gli si dice il numero decimale che si vuole avere come risultato. Quindi con Round Up approssimo sempre in alto, di fatti vedete il 2,2, me lo approssimo in 3. Con Round Down, ok, down, do sempre il mio campo, sempre uguale, lo approssimo in basso, di fatti in 9,9, mi dà come risultato 9. Ok, queste sono le formule di testo. Adesso andiamo a vederne una concatenate X, ok, qui abbiamo visto concatenate. Adesso andiamo a vedere la concatenate X, quella che finisce con la X, cosa fa. Allora, qui ho fatto una misura, andiamo su gestione misure, vedete concatenate X, ho preso il risultato che c'è dentro nella mia colonna città e l'ho messo tutto in orizzontale, aggregato sulla settimana 18, ok. se cambio ovviamente campo, lui, ad esempio, prendiamo, non so, il prodotto, vediamo cosa dà, mi dice, per questi prodotti dove sono stati venduti, ok. Quindi risponde, mi dà sempre il risultato, in base a quello che io vado a mettere nella mia bella tabella pivot. Come ho fatto a costruire questa cosa qua? Allora, eccoci qua, modifica, facciamo un bel control zoom, così la vediamo bella grande, up, eccoci qua, quindi ho scritto concatenate X, ho aperto la tonda, e poi gli ho detto, lui mi dice, metti la tabella, come sempre gli dobbiamo dare il riferimento della tabella, quindi gli ho detto, lavoriamo su questa tabella, punto e virgola, poi lui mi dice, mettimi l'espressione, perfetto, io voglio che mi fai l'espressione su questo campo qua, mi fa il calcolo su questo campo qua. Poi lui dice, mettimi il separatore, vedete qui c'è un trattino tra una città e l'altra, e poi qua giù mettiamo 0, è indifferente quello che andiamo a mettere, mettiamo 0. Perfetto, quando noi abbiamo scritto questa cosa qua, ok, quindi la tabella di riferimento su cui lavorare, il campo che vogliamo andare a concatenare, mettendolo su un record solo, quindi è come se facessimo una pivot del singolo campo, quindi non di tutta la tabella, ok, diamolo ok, e lui mi fa questa cosa qua. Però io ipotizziamo che voglio sapere, su ogni settimana, in quale città ho venduto, però qui io vedo feltre, belluno, feltre, feltre, feltre e così via. Io vorrei avere il distinto di questa cosa qua, quindi come possiamo fare a fare questa cosa qua? Facciamo una modifica, usiamo una funzioncina in più. Allora, qui abbiamo detto che gli diamo sempre il set di dati su cui noi vogliamo andare a lavorare. Allora, vediamo cosa succede, io gli dico, fammi il distinto di questa cosa qua, distinct, ok, quindi utilizziamo la funzione distinct. chiudo la tonda, ok, se io faccio così, faccio il distinct di questa tabella, quindi se faccio un controllo a formula, lui mi dice che è tutto ok, però se do l'ok, ok, ce l'ho uguale, perché il distinto, ok, me lo fa su tutta questa tabella qua. Una cosa che possiamo fare, ok, quando andiamo a dare il nostro set di dati qui, è non solo dare la tabella, quindi noi specifichiamo, guarda, lavoriamo su questa tabella, però io potrei dirgli, guarda, io non voglio lavorare su questa tabella qua, io voglio lavorare su un specifico campo di questa tabella, quindi gli dico, lavoro su questa tabella, ma solo su questo campo qua, così farò il distinct di questo risultato qua, perché quello che noi mettiamo qua, è sempre il risultato sul quale la funzione andrà a lavorare, quindi se noi facciamo il distinct di questo campo, lui otterrà come un risultato una tabellina con questo campo qua, con i valori distinti, ok, e poi avendo i valori distinti, lui fa il concatenamento del campo che appunto, che noi vogliamo, che è lo stesso che ho messo qua, scusate, non data, ma città, ok, quindi io do l'ok e vediamo un po' cosa succede, ecco che io ho fatto la concatenazione, ok, per settimana, di fatti qua vediamo c'è Santa Giustina, Feltre e Belluno, sulla settimana 19 c'è anche Agord, e quindi mi fa vedere che ho fatto un venduto anche su Agord, sulla settimana 20 non c'è Feltre, ok, quindi qui abbiamo utilizzato due funzioncine, concatenate X e distinct, per fare appunto il distinto sul set di dati, sul quale vogliamo far funzionare la nostra funzione, ok, con questo è tutto, se non siete già iscritti, premete il bottone rosso qua sotto, così mi aiutate a far crescere un pochino il canale, se avete voglia, condividete il video nei vostri social, vi saluto, e ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!